Ancora barricate per il settore ferroviario in Germania. A partire da questo martedì i macchinisti della Deutsche Bahn per ovvie dello Stato incrociano le braccia. Lo sciopero interessa i treni merci e a partire da mercoledì anche i convogli passeggeri. L'avvertenza che ha già portato i sindacati ad indire nove scioperi riguarda l'aumento dei salari ed una riduzione degli orari di lavoro.